Se state riscontrando problemi su FIFA 25 che non funziona così il controller quindi qua ci sono anche belle recensioni per lo più negative ovviamente stanno già avendo alcuni problemi per quelli che già ci stanno giocando sull'applicazione EA però l'uscita del 27 di settembre quindi per quelli che stanno avendo problemi riguardo al controller è possibile risolvere il problema sul nostro sistema Windows 10 o Windows 11 Quindi in questo caso vai a scrivere qua sopra direttamente controller ti porterà su configura dispositivi di gioco USB come puoi vedere non c'è nessuna periferica di gioco installata qua sopra quindi in questo caso vado a collegare il mio controller wireless con chiavetta wireless ed eccolo qua controller USB controller connesso Se vado direttamente su avanzata qua devi inserire la periferica preferita se ci sono delle periferiche tipo virtual tu inserisci la periferica tua che hai connesso il tuo controller e metti così questo qua e fai ok Su proprietà invece puoi testare vedere se il tuo controller risponde ai comandi quindi qua è tutto a posto a me funziona una volta fatto il test puoi anche chiudere qua andiamo un attimo su gestione dispositivi tasto destro sopra qua sopra gestione dispositivi Scendo fino a trovare le periferiche Xbox 360 ovviamente vado un attimo a disconnettere il mio controller Connetto così il mio controller Periferiche Xbox vado così a prendere il controller aggiungo i driver Cerco i driver nel computer e scegli da un elenco di driver disponibili nel computer Controller Xbox 360 per Windows Faccio avanti e installo così i driver gli ultimi driver lasciati per il mio controller Poi una volta installati devi solamente riavviare il tuo computer Riavvia il computer ora Quindi se il tuo controller è connesso al computer però non risponde su FIFA puoi fare così Ora se invece Hai un controller della Playstation e vuoi connetterlo al tuo computer Si connetti ma non funziona su FIFA ti servono i driver collegati a questo controller Ovviamente in descrizione ti ho lasciato il DualShock 4 per Windows E abbiamo anche Playstation Accessorio che sarebbe il firmware E questo qua si connette anche tramite Bluetooth e cavo USB Quindi scarichi così questo driver Vai a scrivere qua sopra Playstation Accessories Ed eccolo qua Connetti il controller da PC via Bluetooth o cavo USB Perché una volta connesso il gioco funzionerà perfettamente con il controller E non avrai più problemi grazie a questo driver Se invece vuoi usare il DualShock 4 Usa il DualShock ed eccolo qua Tassi destro sopra Estrai i file Ed eccolo qua Ci clicchiamo sopra Entriamo in DualShock Windows Ed eccolo qua Tu connetti così il tuo controller tramite Bluetooth o cavo USB Ti uscirà qua e tu qua puoi configurare il tuo controller senza nessun problema E giocare a FIFA Se non dovesse bastare andiamo un attimo sui dispositivi Bluetooth Quindi Bluetooth Impostazione dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo Scendiamo fino a giù fino a trovare Xbox 360 Per Windows ed eccolo qua Configurazione incompleta Perché ho aggiornato i driver del mio controller E ora mi dice di riavviare il computer Disconnetto così la chiavetta o il cavo USB come vuoi procedere tu Connetto di nuovo la mia chiavetta wireless Riconnetto il mio controller Faccio rimuvi Rimozione del dispositivo per sempre e poi dopo Disconnetto di nuovo la mia chiavetta La riconnetto Ecco che si connette A Windows E il gioco è fatto Quindi questi metodi funzionano soprattutto su moltissimi giochi Quindi ti consiglio di usare sempre questi metodi qua Aggiornare sempre i driver del tuo controller e basta Quindi grazie a tutti per questa visione Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao